Davide Cipelli è stato riconfermato sindaco di Camporosso, tra i candidati consiglieri ecco i più votati. Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in noi, che in particolare hanno creduto in me, che ci hanno dato fiducia, che mi hanno dato fiducia e che mi hanno dato il loro voto riponendo in noi questa grandissima fiducia. Sono molto contenta perché i risultati sono andati oltre le mie personali aspettative, per cui grazie davvero a tutti. Grazie.